La domenica del Round Pata Dunlop Chief al Mugello ha regalato una giornata indimenticabile ai partecipanti, grazie a una visita speciale che ha reso l'evento ancora più emozionante. Alcuni bambini che hanno partecipato ai corsi Hobby Sport Primi Passi hanno avuto l'opportunità di vivere dal vivo l'atmosfera del campionato italiano velocità. I corsi Hobby Sport Primi Passi sono stati organizzati dalla SSAS in collaborazione con il Corre Toscana, offrendo ai giovani partecipanti la possibilità di fare una prima esperienza in minimoto in totale sicurezza. I corsi sono progettati per introdurre i bambini al mondo delle minimoto, fornendo loro le basi necessarie per iniziare a sviluppare le loro abilità di guida in un ambiente controllato e sicuro. L'evento ha raggiunto il suo culmine con un momento speciale. I bambini hanno avuto l'opportunità di salire sul podio insieme a Loris Capirossi, che era in visita al Dunlop Chief. Capirossi, ex pilota di MotoGP e figura di spicco nel mondo delle corse motociclistiche, ha condiviso la sua passione e la sua esperienza con i giovani aspiranti piloti, rendendo l'occasione ancora più speciale. La presenza di Capirossi ha aggiunto un tocco di magia all'evento, ispirando i giovani partecipanti e dimostrando loro che i sogni possono diventare realtà con impegno e dedizione. Per i bambini è stata un'esperienza formativa e motivante che li ha avvicinati al mondo delle corse motociclistiche, infondendo loro una passione che potrebbe accompagnarli per tutta la vita. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella promozione dello sport tra i più giovani, offrendo loro opportunità uniche di apprendimento e crescita personale. Gli organizzatori del CESAS e del CRE Toscana meritano un plauso per il loro impegno nel creare eventi sicuri e divertenti, che non solo introducono i bambini al mondo delle mini-moto, ma promuovono anche valori di sportività e rispetto. In conclusione, la Domenica del Round Patadanlop Chef al Mugello non è stata solo un evento sportivo, ma una giornata di ispirazione e sogni realizzati per i giovani partecipanti, grazie alla presenza di una leggenda come Loris Capirossi e alla dedizione degli organizzatori dei corsi primi passi.